L'Almanacco della Fede Di Padre Livio Incominciamo sempre cari amici con un pensiero Che ci illumini sulla situazione nella quale ci troviamo a vivere Che è una situazione storica particolare Oggi di questi tempi i giornali tirano fuori l'apocalisse per ogni cosa Diciamo l'apocalisse per la siccità L'apocalisse climatica L'apocalisse della guerra L'apocalisse del virus Adesso non so più cosa lo appiccicheranno il nome apocalisse In realtà non sanno cos'è l'apocalisse L'apocalisse è veramente un evento comunque drammatico Quello non c'è dubbio Ma è un evento che sta a indicare Che l'umanità è in una tale condizione di pericolo E ovviamente dal punto di vista apocalittico Il pericolo riguarda prima di tutto le anime E poi riguarda anche la vita qui su questa terra La vita stessa del nostro pianeta Ma soprattutto l'apocalisse riguarda i pericoli che corrono gli uomini Per quanto riguarda Diciamo il tentativo dell'impero delle tenebe di Sadia Di impadronissi del mondo Di impadronissi delle anime E di distruggere il mondo stesso Quindi non si può parlare di apocalisse Nel senso della parola Nel senso del libro dell'apocalisse Senza vedere i contorni Del grande combattimento spirituale Che è appunto da una parte Diciamo nel nostro caso In questo primo combattimento escatologico dell'apocalisse La donna Maria E ovviamente i soseguaci da una parte E il drago Cioè Satana E i soseguaci dall'altra Questo è il contesto Il cornice dell'apocalisse È un grande combattimento di carattere spirituale Che ha in palio prima di tutto La salvezza eterna delle anime Ma anche il dominio sul mondo Ed è la battaglia nella quale Dio vince Quindi nel quadro biblico Della rivelazione neotestamentaria L'apocalisse è un libro di consolazione Che dice i cristiani perseguitati Dal mondo Dice non temete Perché l'agnello sarà vittorioso Nel nostro caso Ci accostiamo più Al capitolo 12 dell'apocalisse Dove c'è proprio la donna Che è Maria e la chiesa Da una parte Il drago dall'altra È quello che stiamo vivendo In questi tempi Con la presenza Della regina della pace Che è la donna dell'apocalisse Con la corona di 12 stelle Con i piedi su una nuvola E che viene per vincere Per trionfare Cioè l'inviata di Dio Per trionfare sulle potenze del male E perché il mondo Abbia un tempo di pace Quindi diciamo C'è un abuso Del termine apocalisse E c'è anche Un stravolgimento Del termine apocalisse Nei cristiani invece La parola apocalisse Non ci deve far paura Anzi La parola apocalisse Vuol dire rivelazione Cioè la rivelazione Diciamo Dell'intervento di Dio Che salva il suo popolo Dunque cari amici Uno dei Se vogliamo stare Su questa traiettura Di uso e abuso Del nome dell'apocalisse Uno degli eventi Diciamo Dall'apocalisse Del nostro tempo A mio parere Uno dei eventi Più significativi In senso negativo Però E' il grande cambiamento Che è avvenuto Vorrei dire In questi ultimi vent'anni Cioè da quando Appunto Citando l'apocalisse La Madonna All'inizio del secolo Ha detto Ora che Satana E' sciolto dalle catene Consacratevi Al mio cuore E a quello Di mio figlio Gesù Poi Da quella Da quella rivelazione Di circa vent'anni fa Era la notte Del primo gennaio Del 2000 E da allora Cari amici Del 2001 Scusate Da allora Cari amici La Madonna Ci ha descritto Questo passaggio Questi vent'anni Come appunto Il tempo In cui Diciamo Si è dissolta La fede Si è dissolta La fede Ma in un modo Direi quasi Misterioso Cioè Chi ha vissuto Io Diciamo Ho un'età Per cui Basta un po' Di memoria storica Per ricordarmi Quando ero Bambino Era un ragazzo Era un giovane Seminarista Era uno studioso Dalla Gregoriana Era un giovane Prete a Milano Ho fatto le mie battaglie Per la fede Nel 68 Per la testimonianza Della fede Eccetera E quindi Era comunque Eravamo in un mondo Dove Certamente Bollivano le forze Del mare Ma il cristianesimo Era comunque Una realtà Ben radicata E capace Di Contrattaccare Di contrattaccare E reggere all'urto D'altra parte Sappiamo che Il pontificato Quello di Paolo VI È stato Un pontificato Battagliero Anche se La battaglia Di Paolo VI È stata Soprattutto Di carattere intellettuale Ma lui è stato Comunque Quello che ha Fronteggiato Lui stesso Si è espresso In questi termini Di due schieramenti Nel mondo Cioè Il mondo Di quelli Che dicono Che indicano Nell'uomo Dio stesso Per cui Lo schieramento Di chi Attribuisce All'uomo La divinità E lo schieramento Cristiano E non solo Cristiano Di chi invece Ritiene Che Diciamo Che Dio Dio stesso Si è fatto uomo E quindi Ha elevato L'uomo La dignità Divina Quindi Questi sono i due schieramenti L'uomo Al posto Di Dio E Dio Invece Che invece Si fa uomo E si avvicina All'uomo E lo eleva Sono i due schieramenti Che aveva Identificato Paolo VI Ma lui portava avanti Una battaglia Soprattutto di carattere Intellettuale Comunque molto Efficace Di grande efficacia Fu il credo Del popolo Di Dio Che lui Professò Solennemente Nella basilica Di San Pietro Nel momento in cui Rumoreggiava Anche all'interno Della chiesa Le correnti Moderniste Volte A In qualche modo Rendere il cristianesimo Un fenomeno umano E basta Poi ci fu Il pontificato Battagliero Di San Giovanni Paolo II Che incominciò La sua Diciamo Il suo pontificato In piazza San Pietro Quando disse Aprì La sua prima parola Fu Sia lodato Gesù Cristo Disse quella sera E in quel Breve discorso Disse al mondo Aprite le porte A Cristo Quindi ci fu Veramente Un pontificato Che portò In ogni parte Della terra L'annuncio Della buona novella Cioè Cristo Salvatore del mondo Quindi Questi sono I Diciamo I tempi In cui L'attacco Contro Dio Contro Cristo Contro la chiesa Contro il cristianesimo Si intensificavano E La resistenza Della chiesa Che poi è continuata Sappiamo Con grande abilità Con grande forza Con benedetto sedicesimo Cari amici E sappiamo che In tutto questo Questo tragitto Che comprende anche Il pontificato Di Papa Francesco In tutto questo Tragitto Cari amici Dove c'è stata Abbiamo avuto Un Papa Migliore Non si può dire Migliore Abbiamo avuto Una serie di papi In modo particolare Dono di Dio Possiamo veramente dire Ciò nonostante Ciò nonostante Proprio a partire Dall'anno 2000 Si è diffuso Nel mondo Un virus Misterioso È proprio la mia Sensazione Che ho avuto Un virus Misterioso Che non vedi Non senti È come L'ossido di carbonio Quel gas Venenoso Micidiale Che esce dal camino Quando tu sei lì Nella tua taverna Accendi il camino E non ti accorgi Che il camino Produce questo gas Tu ti addormenti E ti svegli in paradiso O all'inferno Addirittura Non si sa mai Come va la vita Se non siamo preparati Quindi si è diffuso Questo virus Silenzioso Mortale Che io chiamerei L'ateismo Pratico Una mentalità Un modo di vivere Di pensare Di parlare Come se Dio Non ci fosse Si è diffuso Ovunque Si è diffuso Dappertutto Soprattutto in occidente Si è diffuso Con una velocità Impressionante E nessuno È riuscito A fermarlo Non c'è stato Nessun tentativo Che è riuscito A bloccare Questa Occupazione Delle anime Da parte Di questo virus Per cui Noi ci siamo ritrovati Adesso Con un mondo Dove non si parla Più di Dio Io non dico Che manchino Le anime Per grazia di Dio Che pregano E che credono Certo che ci sono Se non ci fossero Se non ci fossero Il mondo Collasserebbe Sotto la potenza Del male Però Queste anime Che ci sono Che pregano Che testimoniano Sono come dire Come dire Stelle Stelle Disseminate Qua e là O come ha detto La Madonna In un'espressione Bellissima In un messaggio Amiriana Ha detto Che io accendo Delle luci Qua e là Per impedire A Satana E alla sua Per impedire A Satana E alla sua Tenebra Di prendere Una Superiorità Assoluta Cioè Noi siamo Arrivati A questo Che questo Virus misterioso Cioè L'ateismo Pratico La visione Della vita Intramontana Non c'è Dio Non ci sono comandamenti Non c'è anima immortale Non c'è al di là Non c'è preghiera Non c'è pentimento Non c'è vita eterna Questo è il modo Di pensare Di tanti cristiani Che magari vanno Anche in chiesa Cioè Questo virus Ha compenetrato Le anime È entrato Nelle menti Le ha offuscate È entrato Nei cuori Le ha essicati Questo virus È come Dire Non so Una Una Un ammasso Sul furio Gettato In un giardino Verdeggiante Dove tutto secca Tutto brucia Tutto si decompone E così è stato In questi anni Che tante anime Dove non c'è più La luce di Cristo Non c'è più la grazia L'acqua viva Dalla grazia Sono diventate Deserte Improduttive Abitate Da serpenti E da scorpioni Senza luce Senza pace Senza gioia Inquiete Agitate Scontente Arrabbiate Disperate Questa è la metamorfosi Esistenziale Che abbiamo sotto gli occhi Di questi vent'anni Soprattutto Perché Adesso c'è un deserto Un grande deserto Grazie a Dio Il deserto Ha le sue osi Le osi Che la Madonna Ha L'Amazonna Ha coltivato Le sue osi La Madonna Ha fatto Soprattutto Di Međugorio Un'osi Di pace Di preghiera Poi queste osi Ci sono Moltiplicate Nel mondo La Madonna Ha avuto Una strategia Come vi ho detto Prima Di tenere accese Delle luci Qua e là Perché le tenebre Non abbiano A prevalere Ma questo Cari amici È quello Che ci è accaduto Ma quale Voi pensate Quanti vostri Familiari Quanti vostri Parenti Quanti vostri Amici Sono entrati E sono stati Catturati Da questo virus Senza che Se ne accorgessero E te li ritrovi Completamente atei Completamente Chiuse a qualsiasi Visione Della vita Che vada al di là Del quotidiano Dove Non ci sono più Gli interrogativi Di fondo Se Dio esiste Se la vita eterna Esiste Cos'è il bene Cos'è il mal Tutto è scomparso È rimasto Il mangiare È rimasto Lo star bene È rimasto Il benessere Per il proprio corpo Non è rimasto Più nulla Cioè il diavolo Ci ha Svuotati Ha fatto di noi Dei gusci vuoti Siamo morti Che camminano È una cosa È il mondo D'oggi Nel quale viviamo Ma noi Rischiamo Di diventare così Perché Questo virus Ha bisogno Di essere combattuto Diversamente Ti cattura Ti succhia L'anima E te la divora Come combatterlo? La Madonna Ce lo dice Da 40 anni Pregate 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 Giorno E notte Pregate Incessantemente Cari amici Per non essere Catturati Da questo virus Mortale Che ci svuota E fa di noi Degli zombie Perché quando Non c'è più Un'anima Non c'è più Dio Non c'è più La luce Non c'è più La verità Non ci sono più Comandamenti Cosa c'è In un'anima? C'è solo L'intelligenza Operativa Sul piano Diciamo così Materiale Basta Non c'è più Una dimensione Interiore Una dimensione Etica Una dimensione Trascendente No Non c'è più Niente Allora Cari amici Se noi Non vogliamo Essere catturati Da questo virus Che è micidiale E che sta Catturando il mondo Abbiamo una sola Possibilità E cioè Cercare Dio Ogni giorno Nella preghiera Cercare Dio Che è in noi Che abita in noi Che ha preso dimoro in noi Cercare la sua luce Cercare l'acqua viva Di cui ci disseta Cercare la verità di Dio Cercare la santità di Dio Cercare la gioia di Dio Cercare la forza di Dio Cercare la speranza in Dio Cari amici Questo È ciò Che va fatto ogni giorno E quando parlo di Dio Cari amici Parlo di colui Che ce lo rivela Di colui Che ce lo porta Che è il figlio di Dio Che si è fatto uomo Che è Gesù Cristo È per quello Che la Madonna Ci ha detto Ora che Satana È sciolto dalle catene Consegratevi al mio cuore E a quello Di mio figlio Gesù Cerchiamo nella preghiera L'amore di Dio Il perdono di Dio Il perdono di Dio La grazia di Dio L'acqua viva di Dio Il senso di Dio La luce di Dio Nutriamoci di Dio Giorno e notte Diversamente Il virus Dell'incredulità Ci divorerà Ci andrà Dei gusci vuoti Degli zombie Di cui Satra si appropria E porta Con sé Laddove non c'è Né luce Né pace Né gioia Né felicità Questo è il pensiero Cari amici Di questa mattina Come si combatte Il virus Della pandemia Con le medicine Appropriate Così combattiamo Il virus Dell'incredulità Dell'ateismo Che si diffonde Nel mondo Con la medicina Appropriata Che ci ha metto La Madonna Che è la preghiera E non solo La preghiera personale È necessaria La preghiera Della Chiesa La preghiera Che è La preghiera Della Chiesa Per eccellenza Che è la Santa Messa Che è l'Ucarestia Abbiamo bisogno Di sentire Che è la Chiesa Che prega Che è la Chiesa Che mobilita Abbiamo bisogno Di sentire Che la Chiesa È viva Che la Chiesa Testimonia Dio Che la Chiesa È a servizio Di Dio Che la Chiesa Lavora per le anime Abbiamo bisogno Di sentire Questo E di sentirlo Nei nostri pastori E dobbiamo Prima di tutto Farlo vivere In noi stessi Perché nulla È gratuito O meglio Tutto è gratuito Ma se i doni Ma se i doni Che ricevi Non li metti A frutto È come se Non ti fossero Dati Quindi la nostra Preghiera personale Ma la preghiera Della Chiesa Dobbiamo veramente Guardare La parrocchia Di Međugorje Che è un osi Di preghiera Dove si prega Da mattina A sera Dove la preghiera È l'anima Della Chiesa Abbiamo bisogno Di questo Le nostre parrocchie Che pregano Le nostre parrocchie Intorno all'Eucaristia Le nostre parrocchie Dove si legge Il Vangelo Le nostre parrocchie Dove Si testimonia La salvezza Perché Il mondo Senza Dio È il mondo Dalla morte È il mondo Dall'inferno Anticipato È un mondo Invivibile È un mondo Insopportabile E l'alternativa Qual è? È L'alternativa È La vita con Dio E la vita con Dio È nella Chiesa Noi dobbiamo Cioè Questa alternativa Cioè Alla disgregazione Della creazione Alla disgregazione Della fede Dobbiamo Opporre Cari amici Che cosa? Opporre Il fiorire Della fede Il fiorire Delle buone opere Insomma Il male Lo si compatte Con Dio E col suo amore Con la sua santità E con la sua grazia E questo Lo possiamo Attingere Nella preghiera Facciamolo Cari amici Resistiamo Al male Perché In questo tempo Nessuno Si faccia Illusione Nessuno Si mette in testa Ad aver ragione In questo tempo Le anime Vengono Vagliate Una ad una In questo tempo E nei tempi prossimi Le anime Verranno Verranno Come dire Esaminate Una ad una Ognuno Sarà visitato Da Dio Ognuno Dova rispondere A Dio Ognuno Dova scegliere E che sia Una scelta Radicale Totale Per Dio Cioè Nessuno Asconti O si è Totalmente Per Dio O che cosa Siamo Rami secchi Cioè Doviamo capire Il tempo Che viviamo Se è vero Che anche ha detto La Madonna Che Sadr Ha visitato La Terra Col suo potere Di morte Di odio Di paura E anche vero Che la Madonna Ha visitato La Terra E sta visitando La Terra Chiamando La conversione Ogni anime È chiamata La conversione Tutti saranno Giudicati Dal primo All'ultimo E noi dobbiamo Cari amici Dell'umiltà Gridare Dal profondo Della nostra miseria Dal profondo Gridata O Signore Signore Ascolta La mia voce E ci affidiamo Alla divina misericordia Pentiti Umiliati In un atteggiamento Di preghiera Come dire Atteggiamento Di preghiera Che è Non soltanto Quella a parole Ma è il modo Di essere nostro Di creature Che sanno Che senza Dio Non possono far nulla Questo dunque Cari amici Era quello Che volevo dirvi Queste sono cose Importanti Queste sono cose storiche Ci voglio dire Io sto parlando Non sto facendo Il fervorino Sto dicendo Quali sono i pericoli Oggi Il pericolo Che il mondo Perda Dio Ha perso tutto E come bisogna Affrontarli Sto ripetendo Quello che È la preoccupazione Della Madonna Quotidianamente L'almanacco della fede Di padre Livio Metà Perda Dio Perda Dio Grazie a tutti.